Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Ci colleghiamo dal Terminal Messina di Genova, dove oggi, in una giornata veramente molto particolare adesso, vi ricorderemo perché si tiene un importante appuntamento dell'Associazione Italiana Nazionale dell'Impiantistica. Io sono con Ignazio Messina, amministratore delegato della Ignazio Messina. Dicevo un giorno particolare, capitato per caso, che proprio oggi il TAR dovrebbe pronunciarsi sul ricorso presentato dal Gruppo Eteria contro l'assegnazione dei lavori della DIGA al Consorzio WeBuild Fincantieri Fincosit. E si idra tutto casuale sicuramente, ma la DIGA... Abbiamo organizzato due mesi fa, per cui non era tutto a causa. Speriamo che sentano i nostri lavori, che così si convincono a far procedere i lavori della DIGA, perché non è in discussione l'esecuzione dei lavori della DIGA, ma l'assegnazione a una delle due cordate che hanno fatto. Speriamo che queste cose... Noi di ricorso al TAR ne abbiamo fatti tanti, per cui non possiamo dire niente, però in effetti se ci fosse quella norma per cui una volta assegnato chi vince il ricorso al TAR, che ha perso, fosse indennizzato, le opere avrebbero veramente una realizzazione molto molto più veloce. E la DIGA è proprio uno degli oggetti principali di questo vostro incontro, per ribadire ancora una volta, quant'è fondamentale, perché? Rispieghiamo. Sì, perché il porto di Genova, come sappiamo ormai, i contenitori vanno un po' tanto di moda, no? E quindi questa è l'Associazione Nazionale dell'Impiantistica e quindi muovono progetti, muovono cantieri, realizzano opere all'estero e quindi volevamo far capire anche il porto di Genova come potrà cambiare con la nuova DIGA, perché saranno sicuramente interessati i primi termini verso Levante, dove potranno attraccare le navi di ultima generazione di contenitori. Però tutti noi, termina che sono poi in questa prima fase non interessati, stiamo reclamando di mantenere tutti i pettini, i moli a pettine come sono oggi, perché abbiamo da una parte l'autostrada del mare che hanno bisogno di tanti accossi e dall'altra, anche il nostro termine si sta convertendo molto alla merce varia, all'impiantistica la stiamo facendo da anni, ma soprattutto la merce varia adesso sono in attesa di ricevere delle navi di zinco da 3.000 tonnellate a 10.000 tonnellate e quindi abbiamo bisogno di accossi, abbiamo bisogno di questa tipologia di accosti e per cui chiediamo all'autorità portuale di mantenere questa tipologia, finché non ci sarà la seconda fase della DIGA, sempre che ci sia o meglio, io non so se la vedrò. Intende dire moli a pettine e quindi qualche riempimento in meno? Esatto, qualche riempimento in meno perché abbiamo bisogno di accosti, di spazi a terra, è vero, adesso qui da noi dovrebbero finire prima o poi il riempimento Roncocanepa e quindi avremo una bella piattaforma, però la necessità, noi oggi stiamo soffrendo come termine degli accosti, infatti per ricevere queste navi dobbiamo ritardarne delle altre, quindi stiamo litigando molto con gli accosti. Oggi abbiamo molte aree rispetto agli accosti. E quali sarebbero quelli in meno da fare secondo voi, visto che si parla invece da altri lati dell'urgenza di fare riempimenti come Concenter, Giacconi? Diciamo che senza voler parlare per gli altri, però da quello che abbiamo un po', da quello che è emerso anche nella sezione terminalistica e diciamo da spinelli in poi si vorrebbe mantenere lo stato attuale delle banchine. Poi certo se uno ha bisogno di maggior fondale, rinforzarle, ci mancherebbe altro, però altrimenti sarebbe necessario mantenere questo. Per quanto riguarda Inoli, si è vissuto un periodo di grande esplosione con grandissimi insomma anche profitti da parte delle compagnie armatoriali. Adesso che fase si sta iniziando a vivere? Dopo dieci anni ci mancherebbe altro. No, vorrei parlare con tutti quelli che hanno detto che eravamo in un oligopoglio, quasi monopolio, che era assolutamente ingiustificato questo aumento dei Noli. Ci abbiamo messo dieci anni a provare a far rialzare i Noli, poi oltretutto sono partiti per problemi a terra, non per merito degli armatori. Loro, noi abbiamo colto l'occasione, però in due mesi i Noli sono già tornati, non dico a livello pre-Covid, molte rotte e in alcune rotte sono diminuiti anche del 70%. In che rotte le maggiori diminuzioni? Le maggiori diminuzioni sono sui contenitori, sulle rotte est-ovest, le principali rotte, però anche su quelle del nord-sud e quelle dal golfo arabo dall'India verso il Mediterraneo si sono ridotte almeno del 60%. È ovvio che questo, anche per i lavori che avremo oggi sul tavolo, ha tutti degli effetti dei meccanismi anche tra diverse tipologie di navi, perché quando c'era il boom dei Noli, dei contenitori, anche le navi multipurpose sono state noleggiate con grandi profitti per trasportare contenitori, che non è proprio il loro mestiere, però con un po' di difficoltà però si possono trasportare. Adesso i Noli che scendono, sicuramente queste navi ritornano a fare il loro mestiere, che è quello di prendere la merce varia, ma non solo, anche la merce che era andata molto nei contenitori, anche quella che non ottimizza la portata del contenitore, visto che i Noli erano molto molto bassi prima di questo aumento, adesso in questi due anni sono tornati di nuovo sulle navi multipurpose e quindi ci si aspetta anche che se i Noli dovessero continuare a diminuire, della merce ritornerà dentro i contenitori. Quindi ci sono delle dinamiche di cui oggi parleremo, che sono complesse, non sono banali solo l'aumento e la diminuzione del Nolo. Quindi questo è di quello di cui parleremo e cercheremo un po' di tracciare quello che potrebbe essere il mercato del 2023. E i rotabili? I rotabili, incrociando le dita, non facendo le corda, stanno tenendo molto. Diciamo che in quest'anno abbiamo aumentato molto il Nolo, c'è questo picco di domande di rotabili, da nord Europa non c'è più uno spazio per i prossimi 3-4 mesi a bordo delle navi, delle navi pur car carrier e track carrier e non si riesce a trovare una nave a noleggio per i prossimi due anni. Le prime navi arriveranno nel 2024, quelle che hanno ordinato, per cui in questo momento la parte rotabile sta vivendo un momento d'oro per noi che la trasportiamo ovviamente. Infatti noi stiamo aumentando molto la quota di rotabili a bordo delle navi, che quando c'erano i nolli dei contenitori alti, ovviamente davamo prevalenza ai contenitori, oggi abbiamo triplicato la quantità di rotabili a bordo delle nostre navi. Quindi per chiudere il 2023, dovendo riassumere in pochi secondi la tendenza dei nolli e delle tipologie di merda? I contenitori tendenzialmente saranno ancora per qualche mese sicuramente in diminuzione. Speriamo che gli armatori, i grandi global, smettano di farsi concorrenza fra di loro perché se il mercato dice 100 non è che abbassando i nolli il mercato diventa 150. C'è una carenza di domanda che non la si fa aumentare se diminuiscono i nolli perché il problema è economico, l'inflazione negli Stati Uniti, l'inflazione in Europa, il caro energia e quindi sono dinamiche che i nolli non fanno molto. Ce li rubiamo o si li rubano fra di loro abbassando i nolli. Quindi spero che a un certo momento si fermino, non si arrivi neanche a livello pre-covid. Poi ci sarà la grande incognita delle nuove regole per le navi che devono rispettare, iniziano le nuove regole di un maggior rispetto dell'ambiente per cui diverse navi potrebbero o essere demolite perché non vogliono fare gli investimenti in armatori oppure si dovrebbe diminuire la velocità per mantenere determinati ratio che dal 2024 dovrebbero dare un cartellino verde, avete presente quello quando ci sono le classi energetiche sul frigorifero. Le navi avranno davvero le stesse classi energetiche per cui chi rispetta certe classi non deve fare niente e altri invece dovranno diminuire la velocità, diminuire le emissioni di CO2 in qualche maniera e quindi poi ci sarà questa grande incognita di quanto peserà. Sicuramente qualcuno ha già iniziato a fare dei conti che si parlerà di 3-400 dollari a contenitore. E quanto secondo voi sarà la percentuale di navi che si salvano con queste nuove regole rispetto al totale? Dipende dagli armatori però adesso iniziamo a vedere delle navi che vanno in demolizione anche perché il prezzo del ferro a demolizione in questo momento è alto, anche navi di 20 anni. Le navi viaggiano anche se tenute bene 30-35 anni e poi c'è questo grande arrivo di flotta di navi di grande dimensione e quindi qualche armatore speriamo che dovendo utilizzare queste navi tolga un po' di navi vecchie e quindi un po' di offerta di trasporto. Grazie. Grazie a voi.